Di poco, e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Una gara dai risvolti drammatici, decisa solo nel recupero. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. Non ci resta più molto tempo. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È sempre un piacere lavorare con te Fabio. Grazie. 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 Grazie.